Ciao a tutti ragazzi, questo oggi è un cambio di formazione, Barattolo e Bullo qui con voi per lo specialino su Minecraft Ciao a tutti Dov'è Smilzo e chi sei? Allora, io sono tuo fratello Grazie per avermelo detto, ma hai illuminato Esatto Mentre Barattolo Che sono io, è qua a fare il video È lui Esatto Mentre Smilzo Che è l'altro Che è il malato Oggi appunto Senti, sei rimasto a casa per farsi i cazzi suoi, per piacere, malato di che roba Io questo non lo so Eh, lo so io Vabbè, comunque, che bella mappa Che lecca culo che sei, vuoi dei soldi? Ma se me li dai sono contento Ah, figurati Comunque, questa mappina è stata costruita da me apposta per fare questo specialino E augurarvi a tutti Buon Natale e un Felice 2013 Che, aperta tonda, era scritto dietro Buon Natale Che tirando quella leva lì doveva esplodere La scritta rimaneva solo Felice 2013 Solo che se lo faccio mi crash a Minecraft Perché ho un computer di merda B Con Fraps mi lagga il doppio e il computer non regge Devo buttarlo E visto che sto registrando sul mio Perché il pezzetto di cacca è a casa A giocare a COD E non ho detto niente io Non sono stato io Hai sentito qualcosa tu? No Ah, ok, buono Allora devono esserci delle presenze Niente Comunque, Buon Natale Felice 2013 E, boh, speriamo che oltre a tanti regali Vi porti da... Vi porti... Vi porti... Con la parola lì E anche tanta felicità Ciao a tutti Buon Natale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti